Sono stato fino a mezzanotte e mezzo sperando di poterli benedire, però non sono potuto entrare per il fumo che ancora oggi stamattina emane da quella fucina e quindi l'ho benedetta da lontano perché erano due angeli, tre angeli custodi, per me come ha detto il Papa sono la carne di Cristo e quindi adesso lodano il paradiso. Ogni mattina mi aiutavano a distribuire il pane, i loro poveri mi aiutavano a distribuire il pane, il latte che Franco Corbelli mi dava ogni lunedì, io li conosco benissimo e li amo moltissimo, per quanto riguarda le altre supposizioni che fanno alcuni colleghi giornalisti non mi interessano, forse nel CIMI, gli ammalati siamo noi, guardate nel mondo cosa sta succedendo, i veri ammalati forse siamo noi, noi dobbiamo andare tutti al CIMI, tutti, questi sono degli angeli che godono il paradiso perché erano stufi dell'ingiustizia umana, io questo so dire di queste persone che conosco benissimo e che amo moltissimo, io non intendo minimamente criticare nessuno, soltanto dico che bisogna amare e rispettare i morti, almeno questo.